Il tuo gatto è difficile? Eh sì, è proprio un mascalzone, è difficile per quanto riguarda il mangiare. Non mangia tutto quello che gli do. Mentre il Viscas è stato il massimo, gli è piaciuto moltissimo dalla prima volta che glielo ho dato. I gatti difficili adorano Viscas, gustoso e stuzzicante. Ti piaceva il Viscas, vero? E' buono. Viscas, in tante appetitose varietà. Viscas, per i gatti difficili.